dialogo di cristoforo colombo e di pietro gutierrez colombo bella notte amico gutierrez bella in verità e credo che a vederla da terra sarebbe più bella benissimo anche tu sei stanco di navigare non del navigare in ogni modo ma questa navigazione mi riesce più lunga che io non aveva creduto e mi dà un poco di noia con tutto ciò non hai da pensare che io mi dolga di te come fanno gli altri anzi tieni per certo che qualunque deliberazione tu sia per fare intorno a questo viaggio sempre ti seconderò come per l'adietro con ogni mio potere ma così per via di discorso vorrei che tu mi dichiarassi precisamente con tutta sincerità se ancora è così per sicuro come a principio di avere a trovare paese in questa parte del mondo o se dopo tanto tempo e tanta esperienza in contrario cominci niente a dubitare parlando schiettamente e come si può con persona amica segreta confesso che sono entrato un poco in forse tanto più che nel viaggio parecchi segni che mi avevano dato speranza grande mi sono riusciti vani come fu quel degli uccelli che ci passarono sopra venendo da ponente pochi dì poi che fummo partiti da gomera e che io stimai fossero indizio di terra poco lontana semilmente ho veduto oggigiorno in giorno che l'effetto non ha corrisposto a più di una congettura e più di un pronostico fatto da me innanzi che ci ponessimo in mare circa diverse cose che ci sarebbero corse credeva io nel viaggio però vengo discorrendo che come questi pronostici mi hanno ingannato con tutto che mi paressero quasi certi così potrebbe essere che mi riuscisse anche vana la congettura principale cioè dell'avere a trovare terra di là dall'oceano bene è vero che la fondamenti tali che seppure falsa mi parrebbe da un canto che non si potesse aver fede a nessun giudizio umano eccetto che esso non consista del tutto in cose che si veggano presentemente e si tocchino ma d'altro canto considero che la pratica si discorda spesso anzi più delle volte dalla speculazione e anche dico fra me che tu puoi sapere che ciascuna parte del mondo si rassomigli alle altre in modo che essendo l'emisfero d'oriente occupato parte dalla terra e parte dall'acqua seguiti che anche l'occidentale debba essere diviso tra questa e quella che puoi sapere che non sia tutto occupato da un mare unico e immenso o che invece di terra o anche di terra ed acqua non contenga qualche altro elemento dato che abbia terre e mari come l'altro non potrebbe essere che fosse inabitato anzi inabitabile facciamo che non sia meno abitato del nostro che certezzi tu che vi abbia creature razionali come in questo e quando pure ve ne abbia come ti assicuri che siano uomini e non qualche altro genere di animali intellettivi ed essendo uomini che non siano differentissimi da quelli che tu conosci ponchiamo caso molto maggiori di corpo più cagliardi più destri dotati naturalmente di molto maggiore ingegno e spirito anche assai meglio inciviliti e ricchi di molta più scienza ed arte queste cose vengo pensando fra me stesso e per verità la natura si vede essere fornita di tanta potenza e gli effetti di quella essere così vari e molteplici che non solamente non si può fare giudizio certo di quel che la abbia operato ed opere in parti lontanissime e del tutto incognite al mondo nostro ma possiamo anche dubitare che uno si inganni di gran lunga argomentando da questo a quelle e non sarebbe contrario alla vero similitudine l'immaginare che le cose del mondo ignoto o tutte o in parte fossero meravigliose e strane a rispetto nostro ecco che noi veggiamo con gli occhi propri che lago in questi mari declina dalla stella per non piccolo spazio verso ponente cosa novissima e sino adesso inaudita a tutti i navigatori della quale per molto fantasticarne io non so pensare una ragione che mi contenti non dico per tutto questo che si debba prestare orecchio alle favole degli antichi circa le meraviglie del mondo sconosciuto e di questo oceano come per esempio alla favola dei paesi narrati da annone che la notte erano pieni di fiamme e dei torrenti di fuoco che di là sboccavano nel mare anzi veggiamo quanto sieno stati vani fin qui tutti i timori di miracoli e di novità spaventevoli avuti dalla nostra gente in questo viaggio come quando al vedere quella quantità di alghe che pareva facessero della marina quasi un prato e ci impedivano alquanto l'andare innanzi pensarono di essere in sugli ultimi confini del mar navigabile ma voglio solamente inferire rispondendo alla tua richiesta che quantunque la mia congettura sia fondata in argomenti probabilissimi non solo a giudizio mio ma di molti geografi astronomi e navigatori eccellenti coi quali ne ho conferito come sai nella spagna nell'italia nel portogallo non di meno potrebbe succedere che fallasse perché torno a dire veggiamo che molte conclusioni cavate con ottimi discorsi non reggono all'esperienza e questo interviene più che mai quando ele appartengono a cose intorno alle quali si ha pochissimo lume guterres di modo che tu in sostanza hai posto la tua vita e quella dei tuoi compagni in sul fondamento di una semplice opinione speculativa così è non posso negare ma lasciando da parte che gli uomini tutto giorno si mettono a pericolo della vita con fondamenti più deboli di gran lunga e per cose di piccolissimo conto o anche senza pensarlo considera un poco se al presente tu ed io e tutti i nostri compagni non fossimo su queste navi in mezzo a questo mare in questa solitudine incognita in stato incerto e rischioso quanto si voglia in quale altra condizione di vita ci troveremmo essere in che saremmo occupati in che modo passeremmo questi giorni forse più liatamente o non saremmo anzi in qualche maggior travaglio o sollecitudine ovvero pieni di noia che vuol dire uno stato libero da incertezza e pericolo se contento e felice quello è da preferire a qualunque altro se tedioso e misero non veggo a quale altro stato non sia da posporre io non voglio ricordare la gloria e l'utilità che riporteremo succedendo l'impresa in modo conforme alla speranza quando altro frutto non ci venga da questa navigazione a me pare che ella ci sia profittevolissima in quanto che per un tempo essa ci tiene liberi dalla noia ci fa cara la vita ci fa pregevoli molte cose che altrimenti non avremmo in considerazione scrivono gli antichi come avrai letto e udito che gli amanti infelici gittandoci dal sasso di santa maura che allora si diceva di leucade giù nella marina e scampandole restavano per grazia di Apollo liberi dalla passione amorosa io non so se egli si debba credere che ottenessero questo effetto ma so bene che usciti da quel pericolo avranno per un poco di tempo anche senza favore di Apollo avuta cara la vita che prima avevano in odio eppure più cara e più pregiata che innanzi ciascuna navigazione è per giudizio mio quasi un salto dalla rupe di leucade producendo le medesime utilità ma più durevoli che quello non produrrebbe al quale per questo conto ella è superiore assai credessi comunemente che gli uomini di mare e di guerra essendo ad ogni poco in pericolo di morire facciano meno stima della propria vita che non fanno gli altri della loro io per lo stesso rispetto giudico che la vita si abbia da molto poche persone in tanto amore e pregio come da navigatori e soldati quanti beni che avendoli non si curano anzi quante cose che non hanno pur nome di beni paiono carissime e preziosissime ai naviganti solo per esserne privi che pose mai nel numero dei beni umani l'avere un poco di terra che ti sostenga niuno eccetto i navigatori e massimamente noi che per molta incertezza del successo di questo viaggio non abbiamo maggior desiderio che della vista di un cantuccio di terra questo è il primo pensiero che ci fa innanzi allo svegliarci con questo ci addormentiamo e seppure una volta ci verrà scoperta da lontano la cima di un monte o di una foresta o cosa tale non capiremo in noi stessi dalla contentezza e presa terra solamente a pensare di ritrovarci in sullo stabile di poter andare qua e là camminando a nostro talento ci parrà per più giorni esser beati uterras tutto contesto è verissimo tanto che se quella tua congettura speculativa riuscirà così vera com'è la giustificazione dell'averla seguita non potremo mancar di godere questa beatitudine in un giorno o l'altro io per me sebbene non mi ardisco più di promettermelo sicuramente con tutto ciò spererei che fossimo per goderla presto da certi giorni in qua lo scandaglio come sai tocca fondo e la qualità di quella materia che gli via indietro mi pare indizio buono verso sera le nuvole intorno al sole mi si dimostrano d'altra forma e di altro colore da quelle dei giorni innanzi l'aria come puoi sentire è fatta un poco più dolce e più tepida di prima il vento non corre più come per là dietro così pieno né così diritto né costante ma piuttosto incerto e vario e come fosse interrotto da qualche intoppo aggiungi quella canna che andava sul mare a galla e mostra essere tagliata di poco e quel ramicello di albero con quelle coccole rosse e fresche anche gli stormi degli uccelli men che mi hanno ingannato altra volta non di meno ora sono tanti che passano e così grandi e moltiplicano talmente di giorno in giorno che penso vi si possa fare qualche fidamento massime che vi si vengono intramischiati alcuni uccelli che alla forma non mi paiono dei marittimi insomma tutti questi segni raccolti insieme per molto che io voglio essere diffidente mi tengono pure in aspettativa grande e buona Gutierrez voglio Dio questa volta che la si verifichi